Vediamo, fuochino, fuochino, acqua, acqua, fuoco, fuoco. Questa è l'iniziale del suo nome. È lei. È lei, lei. Ha un nome breve, soltanto quattro lettere. È lei. Vabbè, dai, sono contenta, così carichiamo. Ha origini straniere, sua madre è di lingua inglese. È molto alta. È molto alta. È rossa. E da ultimo ti dico che è già stata nella casa più volte del grande fratello. Grazie Alfonso, questo è bello. Hai indovinato? Ci divertiremo almeno, dai. La vado ad accogliere. Dai, vai ad accoglierla, dai. Vai, vai ad accoglierla, dai. Dai che ci divertiamo. Dai che ci divertiamo, vediamo. È lei, è lei. Ha già le mani in tasca, la Luzzi. Meglio in tasca, Alfonso. È certo. Però non si apre la porta. Si apre, si apre. Dai, ci capisco. Mannaggia a te, si apre. Ciao. Non sei Jane? Sono Jill. Piacere. Jill Cooper! È la nuova concorrente del grande fratello. Perché non c'è la visione lista. No, non ci siamo mai. Ciao, Jill. Ciao, Jill Cooper, ragazzi, la regina del wellness. Ciao, ciao. Ciao, ciao.